Musica Ciao a tutti e tutti amiche e amici di Volumbrite, siamo qui ad Aria di Autonomie con Luca Corbetta e Melani Bruna. Luca Corbetta, psicologo, psicoterapeuta dentro il progetto Aria e associazione Episteme. Senti, ti vorrei fare una domanda, ma tenendo conto di quanto detto durante la mattinata, quali parole chiave usaresti per parlare di autonomia giovanile? Forse partirei dalla parola costruzione, nel senso che l'autonomia deve essere costruita sia dai ragazzi che da tutto il contesto, dalle famiglie che li circondano. Per cui non possiamo pensare all'autonomia come un percorso fatto solo da un individuo, ma deve essere fatto da un gruppo, da un sistema di persone che collaborano per creare questi processi di autonomia. Ok, grazie. E mentre Melani Bruna, psicologa dell'area G, dentro il progetto Aria. Invece tu quali parole chiave useresti? Allora, io forse userei due parole, la libertà e il coraggio. La libertà di prendersi anche del tempo per pensarsi, per fermarsi un attimo anche a riflettere su se stesso e fare anche delle scelte che a volte sono delle scelte coraggiose, ma in funzione proprio di poter arrivare o comunque trovare un percorso che porti alla propria autonomia. Grazie allora, ciao e buona continuazione. Grazie a tutti.